calignaia primo di settembre 2019 finito giugno finito luglio finito agosto siamo diciamo all'inizio di settembre si va verso praticamente inverno e l'autunno ma ancora c'è un bellissimo clima settembrino qui sulla costa labronica con un mare calmo acqua calda zero meduse una bella giornata di mare con tanta gente e speriamo che il tempo duri così in modo da poter sfruttare il massimo possibile dei giorni del mese di settembre il 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 il